Buonasera io chiederei solo una cosa perché non portate in osservatorio le tre persone che hanno che ci hanno spiegato quello che sono il motivo per cui sono contrari perché non li portate loro anziché andare voi che comunque siete d'accordo perché vi han detto questo è da fare quindi noi cerchiamo solo di migliorare nel possibile quello che si può fare. Portateci delle persone che invece hanno delle motivazioni forse un po' più serie di quelle che avete voi.